Terra Nova qui al Festival dell'Acqua a Bressanone, ma è una tappa di una lunga kermesse che Terra Nova fa in tutta Italia. Esatto, Terra Nova è presente laddove ci sono tematiche di regolazione e innovazione, è un leader nel settore Energy Utilities per fornire soluzioni di automazione per le aziende del settore. Pertanto questa nostra presenza come platinum sponsor oggi al Festival dell'Acqua ci darà l'opportunità di conoscere le varie utilities presenti e tutti gli attori istituzionali che sono stati presenti. Nel pomeriggio avremo una sessione dedicata, un workshop dove sarà possibile presentare le nostre soluzioni e quindi siamo fiduciosi che questo ci permetterà di far conoscere al mercato le nostre soluzioni ad hoc.